Musica Arriva una sconfitta nel primo match del 2019 per il Cus Palermo che cade in casa contro il Dattilo Andiamo a vedere la sintesi con le immagini curate come sempre dalla Cus Palermo TV I ospiti vanno subito in vantaggio al quinto minuto Con Gomez che non può sbagliare, sfrutta da distanza di poco ravvicinata una bella spizzicata su corner Che permette alla formazione ospite di andare subito avanti e pone in salita il match del Cus Che poi protesta al ventitresimo per questo intervento di Mistretta Che va a atterrare l'attaccante di Mutolo, grandi proteste della formazione Cussina Forse il fallo un pochino viene commesso da entrambi Il direttore di gara opta per una punizione proprio in favore del Dattilo Pulizione che colpisce la traversa splendida di Riccobono Un po' sfortunata la squadra Cussina poi anche con questo errore al quarantaquattresimo Che spalanca le porte al raddoppio del Dattilo, questa volta con Secan Ovviamente dal punto di vista psicologico il Cus va praticamente a riposo Con questa mazzata non si riprenderà la formazione di Mutolo Che poi vede un gol annullato nel finale di ripresa a Pirrotta Ma nulla cambia, 0-2, adesso trasferta la prima del nuovo anno Contro il Mussomeli, gara importantissima Grazie a tutti